adesso visto che ormai abbiamo fatto partire una horror night direi di sfruttare il nostro amico itcio cosa dite attenzione battaglione che signora as windler got away with 25.000 sesterzi la polizia arresta non so cosa significa pur suede non so da pur suede him and to escape e he decided to hide in an abbandoned building daisle va bene continuo si bene tu e l'inglese siamo impara l'inglese col fattore eh vabbè frank ci sta money ok 25k ah no 6 a 0k su 25k allora non vedo un cazzo eh c'erano i tasti non vedo un cazzo ma non è che ho bisogno di tasti ho bisogno di vedere qualcosa eh non si vede veramente un cazzo mouse look zitto 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 immergiamoci nella merda ok va bene eh non si vede un cazzo non vedo un cazzo non vedo non c'è una torcia L di torcia F di torcia T di torcia niente tab spazio possiamo solo camminare molto bene guarda vado qua perchè la porta la vedo palesemente chiusa non vedo un cazzo torna indietro vai qua a sinistra messo salve chiusa entri vedi qua ahhh è un treno mhm o una macchina mhm ok ti segue palesemente non farlo non farlo non farlo torna indietro torna indietro cosa c'è di per te ma ma è un cane mezzo ma che Stefano avanziamo questa cos'è la stanza del treno tutto chiuso buissimo dai dai andiamo a fare la pipita andiamo ma ti hai dato la pappa poverino vuoi vederci io andrei io l'ho visto un po' magro quel cane comunque eh vabbè ma ma c'è lampadario che dorme perchè è sdraiato è sdraiato allora sembra che è più magro vaffaccuno cazzo che ricordo che simpatico niente andiamo sulle scale eh ma è buio un totto c'è chi scende c'è chi sale non vedo il cazzo eh vai andiamo indietro a gambero no eh no è bloccato ma non funziona dove cosa cazzo devo non lo so andiamo indietro a gambero per interagire per interagire più che interagire così non lo so capisco salve sono sempre io eh respira bene però ma è palese che devo venire qui la torcia bene bene sei giorni per bene ah prima nel buio non potevi camminare ma è il cane ma eh eh ora bisogna vedere eh eh e ora eh 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 sono cazzi tuoi adesso cucù non c'è più io andrei io andrei Stefano 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 ma Stefano il cazzo c'è un cane c'è un cane che urla Stefano il cazzo ma sono morto dentro eh e sono morto con te perché sto facendo la stessa cosa ma tu non hai idea di quanto audio ho sentito io nelle orecchie ma siamo pazzi stavo lanciando le cuffie dal vicino per camadò vieni a andare su porca puttana e spavendo porca porca madonna madonna ragazzo figa ma c'è l'audio gigante piano vai piano per l'amor di cristo piano è peggio e perccio e perccio sch perccio escrevere forse ch Sto prendendo sangue Matteo Non mi hanno i cani infarti Matteo Ma accaduto Aspetta un attimo Pausa, pausa Porca madonna Eh, volete un or Un or, sti cazzi No, no, io cancello subito Non faccio la maratona Oh, mamma mia Ragazzi, è un infarto Ma la spalla Non so che cazzo Ma io le coronarie Oh, il cane è andato di là Qua è aperta Ma non mi fido C'è l'inculata, sicuro Ma basta, ma basta Basta, io muro No, vabbè Ma Stefano è impossibile così Ma tu pensa se arriviamo a dieci Veramente mi tocca fare otto ore così Cazzi tuoi Ti ricoverano No, amicchia Vai qua dentro Vai qua dentro No Ce n'è uno appeso Vabbè, vai, vai Vai Eh, vabbè Eh, madonna, quanta gente Non me l'aspettavo Soldi, soldi, soldi Spocchi dalla porta Zitto, zitto Minchia, amore Adesso raccoglio i soldi Questi qua Tutti in il culo Me lo mettono tutti Secondo me è quello sul tavolo Mi puzza quello sul tavolo Eh, porco Ok Mi giro molto lentamente Mi sto girando E sta aumentando la musica Io non vorrei dire Stefano, preparati Questo c'era già prima? Sì Dov'è la porta? Sì Porco Dio Però sono troppo curioso Ah, ma c'è fuori il cervello Ah Ah beh, ma allora Ora ti tocca andare In là Dove è andato il cane? Mi fa male La schiena No, io c'ho il cuore Tipo a 7000 E gli spettatori Godono su questa cosa Capisci? E' Frank Cosa si sta perdendo Manal Che dice? E' dietro No, è inizio Attenzione No, è vicino No, secondo me sono là Ma per sempre Se vado indietro a gambero No, ascoltali Guarda che ce l'ha scritto La famiglia Bendoro E' stata trasformata in un cane C'è scritto lì Ah di dietro Dietro le sbarre Dietro le sbarre Buongiorno E' ma solo che Dove devi andare? Si malattia Cagnolino Non c'è più il cane Ah, nella porta rossa Stai Sotto Ma porco E' già morto Sì, signore C'ha due occhi bellissimi Comunque Complimenti Devo trovare un porco di piede Un piede di porco Non posare il cane Salve, avete un piede di porco? Se lo vuoi No Secondo me sotto Nella porta rossa Stai Ah, e qua non sei entrato Era chiusa No, era aperta questa luce qua Avevi detto che non entravi per paura dell'inculata Sotto Vaffanculo 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 Sono saltato Anche io Godo Dove ero adesso? Non mi ricordo più Vai giù Vai giù dalle scale Vai giù dalle scale No Vai giù dalle scale Ok Pane Jump scare No Questo è troppo Occhio a prendere i soldi ste Leave the building Eh, da dove? Eh, bastard, io lo sapevo Cosa dice? Eh, sì Eh, sì Eh, sì Moriremo di infarto, Stefano Io sto già chiamando cardiologia Tenete i denti serrati La lingua Non tenete in mezzo i denti la lingua? La lingua è attaccata al palato Eccolo lì Non ti spaventi perché non hai l'audio 8000 decibel nelle orecchie Io me lo sono messo apposta per farti compagnia, Stefano E non ce l'hai quanto me, credimi Non ci spaventi, Stefano Non ci spaventi 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 E verso brutto fa il cane però Allora, secondo me è qua No E come li apri sti cosi? Vuoi vedere? Vuoi sapere dov'è la chiave? Eh, dove ci sono gli occhi? Ma come la apri? Zitto, zitto E' aperta Fa un culo E cosa devi fare? Ahahahahahahah Cosa hai fatto? non mi piace per niente puoi lasciare la chiave dove sei c'è la stanza della chiave hai appena preso la chiave no devi correre al contrario mamma se mi gira il gioco ma si girati e corri e gli corri in faccia ai cani no i cani arrivano da lì da quella porta stordito tu esci da questa porta ti gira il gioco ti gira non escono da dove hai preso la chiave ma si fa male il cuore corri in retromarcia non lo so non lo so non lo so non lo so Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dove cazzo ti va a nascondere? Ma che cazzo ne so io? L'hai chiuso? Coni di merda! Cos'è il corridoio della vita? Non mi piace stefan, non mi piace Tieni lontano la lingua, mi raccomando Sì? Ho un dubbio Ho un dubbio Sì so No, ascoltami Sì Finchè continui ad andare avanti il corridoio è infinito Mhm Ok, niente, non a posto Ma? E' cane! Ciao Ma vaffanculo No 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 No